Cosa senti da ogni tanto che tiri? Guarda, io tiro da 17 anni e nonostante questo ci sono dei momenti in cui ho paura e dei momenti in cui non sento nulla al di fuori perché per me c'è solo l'avversario, penso solo a quello e quello è il momento migliore del momento in cui vinco perché sono tranquilla, sono serena, ci bisogna di pensieri a testa. Quando vado in pedana spaventata, pensando, oddio, adesso come mi tocca, come mi muovo. In quei casi lì, non dico che non faccio la mia scherma, però sono un po' irriconoscibile. Quindi quello che auguro a te è di non avere mai paura in pedana e di divertirti.